Un referendum, istituzione squisitamente democratica, per tastare il polso e scoprire se i cittadini sono d'accordo sulla realizzazione della sede unica della regione Abruzzo nelle aree di risulta di Pescara. Per arrivare al referendum, che non può che essere consultivo, occorre però procedere per tappe obbligate. La prima è la raccolta delle firme. Ne occorrono almeno 6.000, hanno spiegato oggi in conferenza stampa gli esponenti del centro-sinistra che sostengono il comitato promotore. I pescaresi potranno firmare o nella sede operativa di Via Ancona 53, che verrà aperta almeno due o tre ore al giorno, o ai banchetti che saranno allestiti in vari luoghi della città. Il sindaco Masci ha detto oggi in conferenza stampa Carlo Costantini, consigliere comunale di azione e portavoce dell'iniziativa referendaria, non si interroga su ciò che serve veramente alla città. Siamo pieni di cemento da recuperare, non possiamo permetterci di collocare la sede della regione nelle aree di risulta. Chi vuole la sede della regione magari può anche firmare e poi dare il suo contributo nel momento del voto. Il referendum è una forma di partecipazione diretta e democratica di tutti i cittadini. Considerato che la formazione delle decisioni che investono il governo della città deve essere sottoposta al contributo diretto dei cittadini, questo lo dice lo statuto, lo dice il regolamento, io se fossi il sindaco Masci ci penserei bene prima di andare avanti, di andare avanti ulteriormente senza aver prima consultato i cittadini. I cittadini non sono lì solo per votare, i cittadini sono lì anche per orientare l'attività di governo. Non spero che nel caso in cui l'esito referendario fosse quello che noi ospichiamo ci si fermi. Il vero problema è che vanno avanti, il vero problema è che vogliono bruciare i tempi perché vogliono mettere la prossima amministrazione davanti al fatto compiuto e questo lo considero profondamente ingiusto. Per questo ho sottolineato che sta cercando di bullizzare Pescara. Io la risulta la lascerei come vuoto, esclusivamente verde, parco, però inserirei una struttura fisica, sicuramente sì, per supportare le attività economiche del centro di Pescara. Io un teatro, un palacongressi, un palaroc, cioè un'attività capace di sostenere la ricettività turistica della città di Pescara, lì la inserirei, qualcosa che però evidentemente funzioni il venerdì, il sabato e la domenica perché il fatturato delle strutture commerciali del centro di Pescara si sviluppa per il 70-80% il venerdì, il sabato e la domenica. Se tu nella l'area di risulta mi fai una struttura che il venerdì e il sabato e la domenica è chiusa, evidentemente non stai dando un grande contributo. Io invece penso di rilanciare le attività culturali, ricreative, turistiche, ricettive, tutto quello che in qualche modo deve esistere nel centro di una città come Pescara per sostenere la sua economia.